ciao lucia oggi volevo presentarvi i miei acquisti ieri mi sono arrivati tutti questi bei gomitoli e volevo appunto presentarveli così che se voi per i prossimi progetti insieme o vostri progetti personali volete acquistare gli stessi filati che ho acquistato io sapete anche insomma orientarvi nell'acquisto allora ho fatto un mix in questo in questo ordine ho fatto un mix ho fatto un mix di filati già per l'estate quindi per la stagione calda ma ho acquistato anche per la mezza stagione barra stagione fredda quindi ho fatto proprio un mix e ho comprato proprio o filati morbidosi o filati leggeri e freschi non ho preso vie di mezzo sono proprio stata così molto netta nella nei miei acquisti quindi o caldi o freschi vie di mezzo tiepidini non ne ho presi allora vorrei iniziare innanzitutto con quelli per la stagione che sta uscendo quindi quelli ancora considerati acquisti caldi e vorrei partire proprio con questo vi dico subito come si chiama e naturalmente qua non si vede aspettate che prendo un altro gomitolo perché ecco qua si chiama bris alpaca o bris o bris comunque chiamiamolo bris alpaca e è un 50 grammi per 350 metri 20 per cento alpaca 40 per cento lana merino 10 per cento moer e 30 per cento acrilico penso che sia proprio la percentuale di moer che lo rende leggermente pelosetto veramente carino ma non è quel peloso che infastidisce proprio solo solo poco poco pelosetto molto sottile penso che si possa lavorare bene con un uncinetto del 33 e mezzo molto molto fine e ho azzardato a prendere questo bel nero diciamo che tanto io lavoro molto sui progetti che vi faccio di solito ve li faccio su campione e di conseguenza anche ho optato per prendere un filato molto scuro quale il nero proprio perché comunque vi faccio sempre registrazioni su campione quindi non avrò comunque difficoltà a farvi vedere il progetto ma volevo qualcosa di nero non avevo ancora mai lavorato qualcosa di nero vi dico la verità e ho voluto provare quindi ho voluto provare proprio con questo è un bel filato sottile caldo e morbido veramente molto morbido non punge mi piace sono veramente soddisfatta di questo acquisto il secondo che vi faccio vedere è questo questo mi ha colpito di questo mi ha colpito ovviamente in foto la colorazione e devo dire che anche il filato rende piuttosto grosso a questa bella colorazione io ho preso queste tonalità che vanno da rosa delle tonalità di azzurro quasi verde e questo nocciola devo dire molto bella mi piaceva proprio il connubio tra tutti questi colori mi piaceva moltissimo ho deciso di appunto prendere questo filato che è il sales self spring ed è un gomitolo 50 grammi per 90 metri la composizione è 100 per cento acrilico e con questo penso che ci farò un golfino scaldacuore qualcosa mezza stagione per le mie bimbe perché quando arriverà il momento proprio di togliere la giacca ma avere comunque qualcosa di caldo addosso per non raffreddarsi pensavo appunto di fare di usare questo filato e la colorazione secondo me questa colorazione è anche molto adatta per bimba perché vedete dentro rosa dentro l'azzurro quindi per una bimba secondo me è molto molto adatto e di conseguenza userò sicuramente questo filato per un progetto baby poi ho preso questo questo di questo mi ha colpito anche anche come nell'altro caso la colorazione questa molto più lucente e sembra quasi un filato cangiante in realtà non è cangiante proprio lucido e morbido mi piace molto su questi toni del verde si sono tutti i toni del verde questi vedete sfiora leggermente l'azzurro ma è comunque un verde acqua ecco quella quella tonalità tra il verde acqua e l'azzurrino è una via di mezzo ecco diciamo così non saprei neanche dare il nome corretto al colore però devo dire che mi piaceva proprio questa questa sfumatura e questo filato si chiama soft chain bull e lo trovo molto simile al filato che ho usato per la maglia del prossimo tutorial proprio nella lavorazione del filato perché vedete sembra quasi una catenella non è un filato ritorto ma lavorato proprio sembra proprio una una catenella quindi è lavorato come se fosse sì un tubo larino ecco chiamiamolo così nella mia ignoranza chiamiamolo tubo larino e ignoranza in fattore di filati vi dico che questo filato è il gomitolo da 50 grammi per 120 metri e la sua composizione 30 per cento lana 55 per cento acrilico e 15 per cento poliamide molto soffice non punge e anche questo sarebbe adatto a fare qualcosa per bambini secondo me perché veramente molto soffice e morbido anche delle copertine anche ma non so io penso che ci farò una maglia per me devo dire la verità ma in ogni caso sarebbe adatto anche per bimbi perché non punge ed è sofficissimo un altro filato ecco l'ultimo invernale è questo ed è sempre un filato con l'alpaca guardate che bel colore melange è un ma non è grigio sembra quasi un sabbia o un beige ecco un beige melange e si chiama pure alpaca light ed è 25 per cento alpaca 50 per cento lana merino e 25 per cento acrilico quindi a una bassissima concentrazione da acrilico il gomitolo è da 50 grammi per 175 metri e devo dire che anche questo è molto morbido non punge non punge assolutamente la composizione proprio maggiore è quella della lana merino ha dentro anche alpaca e pochissimo sintetico devo dire mi piace moltissimo anche questo filato questo non lo so sono ancora in dubbio su cosa farci ma un'idea sicuramente mi verrà passiamo quindi alla stagione calda e ho qui una bellissima che io adoro le cake voi lo sapete le adoro particolarmente se posso trovare un filato in cake lo prediligo proprio perché a questo modo di sfumare ha delle sfumature molto più ampie di quelle che troviamo sul gomitolo proprio perché la metratura è molto più ampia e questa cake che vi dico subito come si chiama perché avevo già staccato ecco qua il suo la sua targhetta è una allora si chiama cake scotton fine ed è 50 per cento cotone 50 per cento acrilico la cake è da 150 grammi per 600 metri nel lotto ne troverete due di cakes quindi per un totale di 1200 metri quindi una metratura che vi permetterà di fare anche progetti un po più grandi ecco come io per esempio vorrei farci un vestito e penso che userò proprio queste queste cakes perché la resa secondo me potrebbe essere ottimale per farci proprio un capo abbastanza grande qui mi da come ferri consigliati il i 3 mm io in realtà ho provato già ad avviare il mio lavoro e l'ho avviato con l'uncinetto 4 e si lavora benissimo e ho proseguito solo per una questione proprio di non far tirare la catenella ho proseguito col 3 e mezzo ma in alcune parti poi del mio vestito sicuramente userò ancora il 4 quindi vi dico che si lavora tranquillamente con 4 secondo me anche 4 e mezzo poi dipende da quanto arioso volete il vostro lavoro oppure quanto lo volete rigido e stretto è molto morbide liscia vedete io ho scelto questa colorazione che va dal rosa a questo verde che sembra molto più grigio che verde il verde mela e il viola ci sono tante altre colorazioni molto belle assolutamente da prendere in considerazione e ovviamente le trovate sempre nello shop della mia amica francesca quindi lo shop italia artisan tolta questa vi faccio vedere vi faccio rivedere perché se non sbaglio ve l'avevo già fatto vedere in un'altra recensione il mio bel pure bambù il pure bambù quindi 100 per cento bambù il gomitolo è da 50 grammi per 200 metri e ve lo volevo fare rivedere nonostante ve l'avevo già ve l'avessi già fatto vedere fine liscissimo morbidissimo fantastico ve lo volevo far rivedere per fare proprio il confronto invece con questo che ho preso in quest'ordine questo qui invece è un gomitolo da 100 grammi ho scelto questo bellissimo blu nevi molto molto bello e si chiama bambù viscose proprio perché è 50 per cento bambù e 50 per cento viscosa qua mi dai ferri 34 non l'ho ancora provato ma vedendolo così potrei optare anche per il quattro e mezzo perché comunque è molto più corposo di questo che è sottilino e a è comunque morbido è comunque liscio è molto luminoso in quanto la sua percentuale di viscosa lo rende così luminoso non so la videocamera non fa vedere bene non rende bene quello che sono questi filati sono meravigliosi e anche con questo siccome l'otto comunque ha dentro 400 grammi la metratura è importante perché ecco non ve l'ho detta sono 100 grammi per 230 metri quindi comunque abbiamo una bella metratura anche con questo volevo farmi un bel vestito ovviamente non so se mi basterà per per la mia taglia ma al massimo ne prenderò un altro lotto perché veramente molto bello e mi ci volevo proprio fare un vestito ero un po incerta prima di acquistarlo perché non l'avevo ancora toccato con mano ma devo dire che toccarlo con mano ha dipanato qualsiasi mio dubbio e lo ricomprerò sicuramente come ricomprerò anche gli altri filati sia invernali che estivi perché mi sono piaciuti tantissimo quindi questi sono i miei acquisti del giorno in realtà del giorno di ieri perché sono arrivati ieri quindi io vi anticipo che sta per arrivare anche la mia maglia adesso ve la faccio vedere sposto tutti i miei filati vi faccio vedere la mia maglia le mie amiche l'hanno già vista nel gruppo facebook ma io ve la voglio fare rivedere la mia maglia cielo e polvere data proprio da questa bellissima sfumatura questa qui era la cakes chain sempre di ice yarns e tutti questi filati li trovate sempre da italia artisan potete contattare la mia amica francesca italia artisan su facebook su messenger oppure potete andare a visitare il suo shop italia artisan e guardare l'infinità di bellissimi filati che troverete se poi avete bisogno di consigli lei è molto disponibile carina e gentile e vi saprà indicare qual è il filato giusto per il vostro progetto io vi saluto vi mando un grosso bacio vi invito sempre a venire a trovarmi sul gruppo facebook creando con luce franci per qualsiasi dubbio qualsiasi perplessità se non riuscite a realizzare un mio lavoro vi do vi aiuto a risolvere qualsiasi inconveniente o problema possiate trovare durante la realizzazione vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao da luci